Enjin Akurek e Tag Babu Yukustun, così come il sostegno delle nostre famiglie e dei nostri amici, sono stati straordinari. Tutti hanno cercato di aiutarci in qualche modo. Tu Babu Yukustun ha continuato con le lacrime agli occhi. Il mio più grande supporto in questo processo è stato Enjin. Nonostante tutto, il nostro amore e la nostra fiducia reciproca ci hanno permesso di superare questi momenti difficili. Lo spirito combattivo e l'atteggiamento positivo di Inji hanno contribuito notevolmente alla sua guarigione. L'esito positivo del trattamento di Enjin Akurek ha rinnovato le speranze della coppia per il futuro. Tag Babu ha affermato che le condizioni di salute di Enjin stanno migliorando di giorno in giorno e che Enjin ora sta molto meglio. I nostri medici hanno affermato che il trattamento ha avuto successo e che il paziente è sulla buona strada per il pieno recupero. Il mondo ci è crollato addosso quando abbiamo ricevuto questa notizia. Enjin non vede l'ora di tornare sullo schermo. Anch'io non vedo l'ora di stare con lui. Tu Babu Yukustun ha dichiarato di aver iniziato a concentrarsi su nuovi progetti grazie al miglioramento delle condizioni di salute di Enjin Akurek. Enjin si sta preparando per tornare nella serie. Tornerà sui set dopo una lunga pausa. Attualmente stiamo lavorando a tanti progetti. Crediamo che realizzeremo un lavoro che i nostri fan adoreranno. In questo processo, per noi la salute di Enjin era più importante di qualunque altra cosa. Sono molto felice che ora sia tornato a lavorare in modo sano. Grazie per aver guardato il nostro video. Arrivederci, ci vediamo in nuovi video.